Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori sul viadotto del turbone, tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina si segnalano 2 km di coda in direzione Firenze e 1 km di coda in direzione Livorno. In A1 in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra in provincia di Massacarrara per il crollo del ponte sul fiume Magra. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, da oggi per 4 mesi i lavori di riqualificazione in Borgo Santa Croce per marciapiedi e carreggiata sarà usata la pietra. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!